Ed eccoci qua con Simona, sono riuscita a brancarla prima che vada negli spogliatoi perché con te è un'impresa insomma, sei sempre molto indapparata. Allora Simona, ascoltami, tu hai appena finito una delle tue lezioni di Functional Training e mi piacerebbe che spiegassi agli amici che ci stanno guardando di che cosa si tratta, per chi è indicata questa attività e soprattutto quali sono i benefici che si hanno frequentando un corso dei tuoi. Va bene, allora ciao a tutti, io sono Simona, insegno Functional Training e io faccio un lavoro a circuito di un minuto dove lavoriamo tutti i gruppi muscolari. Per diversificare un po' la lezione facciamo anche dei lavori al centro con tutto il gruppo, lavoriamo di potenza, di funzionalità, di resistenza, con i barpees, gli squat, le flessioni, però facciamo un paio di minuti e poi riprendiamo di nuovo il lavoro a circuito. Diciamo che questo lavoro non è per tutti nel senso che devi essere in forma, non devi avere problemi di schiena, dolori alle ginocchia, comunque bisogna avere una certa forma fisica, o perlomeno se non sei in forma non devi avere problemi alla schiena, queste cose qua, poi col tempo, piano piano, facendo la lezione riuscirai comunque a mantenerti in forma e a lavorare in un certo modo. Benissimo Simona, hai risposto a molte delle domande che tutti i giorni ci fanno, ma una domanda in particolar modo ci viene fatta soprattutto dai maschietti, perché quando si parla di lezioni musicali non si capisce come mai scappano. In questo caso vedo che le tue lezioni sono piuttosto, diciamo, corpose e soprattutto frequentate anche da maschietti. Esattamente, anche perché diciamo che il lavoro che noi facciamo, come con il Functional, viene preso proprio sulla sala pesi, nel senso che il lavoro che facciamo in sala pesi lo portiamo giù e chi difficilmente, il ragazzo non vuole fare lezione, giù lo riesce a fare perché con il lavoro che fa in sala pesi ha la possibilità di lavorare anche di flessibilità, di resistenza e di forza muscolare, che in sala pesi tante volte non può fare. Invece venendo giù si accorge che può fare anche questo tipo di lavoro ed è assolutamente soddisfatto. Ottimo Simona, beh guarda, hai risposto veramente a tantissime domande. Adesso ti lasciamo scappare perché come dicevo all'inizio tu sei sempre super impegnata e ti ringraziamo per la tua disponibilità e non ci resta solo che dire ai nostri amici di venire a provare una delle tue lezioni. Venite più presto, io vi aspetto e ci vediamo. Ciao Simona! Ciao, ciao Simona! Ciao, ciao!